Giovedì 7 marzo in primo piano nel Tigele News la cronaca. Tre esercizi commerciali del quartiere Roma sono stati sanzionati dalla Polizia Municipale per aver venduto alcolici in orari non consentiti dal regolamento di Polizia Urbana. La sanzione ammonta 250 euro. In un caso lo stesso negozio è stato sorpreso a vendere alcolici in due giornate distinte. Complessivamente le violazioni accertate sono state 14 prevalentemente a carico di persone intente a consumare alcolici in orari e luoghi non consentiti. Affidamento ai servizi sociali per Angelo Peveri e Gheorghe Bottezzatu. Questa è la richiesta fatta da tutto il mondo delle imprese piacentine che si schiera in modo compatto con l'imprenditore di Sarmato e con il suo dipendente romeno da quasi tre settimane in carcere alle Novate dopo la condanna definitiva per tentato omicidio per aver sparato a un ladro nel 2011. Cambiamo argomento. Giornata piacentina per la principessa Soraya Malek d'Afghanistan, la nipote del re Amanullah, grande modernizzatore del paese asiatico tra il 1919 e il 1929 al quale tra l'altro si deve l'abolizione del velo. In serata alle 20 nella cornice dello spazio mostre a Palazzo Farnese è in programma un incontro con la cittadinanza. Fa parte delle numerose iniziative cittadine pensate per la festa della donna. Finiamo con la programmazione prevista su Tele Libertà. Sarà celebrata domenica 17 marzo la festa per il 50esimo anniversario della fondazione del gruppo Alpini di Caorso. Se ne parlerà questa sera alle 20.10 su Tele Libertà nella nuova puntata dell'Alpino. Alle 20.30 invece nuova puntata di quarta dimensione il viaggio curato da Manrico Bissi attraverso la storia e i monumenti della nostra città. Questa sera si parlerà di Piacenza paleocristiana. Questa è la nostra ultima notizia. Il prossimo appuntamento è con il TGL alle 19.30. Buona serata.